Bell'amici terrestri, qui è The Alien ed oggi siamo qui con il mio 47esimo e assoluto gameplay. Siamo sempre qui sull'unico e inimitabile Prince of Persia e le sabbie del tempo ma evitiamo di cianciare troppo ed iniziamo la sfida. Dai Farah andiamo avanti, entriamo in questa stanza che stavamo quasi per entrarci, ma intanto a posto. Ok, cerchiamo di salire lassù. Ok, tiriamo la leva. Non funziona. Secondo me è difettata. Ma vabbè, lasciamo stare. Ok, ora funziona. Non funziona, di nuovo. Credo di aver capito. Prova a tirare le tue ora. Ora tira la tua leva. Ecco. Sì, bravo. Fai come nelle giostre, esulta. Eccomi. Ora tiro la leva. Dai, salta, principe. Non è difficile. Ecco, così. Ecco, bravo. Strappati quel pezzo lì di magliette vestito dal braccio e ora sembra più una canotta, così. Ok, ci siamo. Girati. Arrivo. Se riesci a infilarti lì sotto, mi stupirai davvero. Sapevo che c'era una giocata. Volevo solo vedere se tu lo sapevi. Sempre più spiritoso il principe. Anche se queste battute che fa non fanno ridere minimamente. Continua a correre! No, i miei nemici peggiori, no, gli uccelli di sabbia. Vabbè, facciamoli fuori. Sì, datemi anche il tempo per attaccare, cavolo. Ecco, così. Ho trovato un modo per fermarli. Ecco, così. A posting. Eh, Farah, capivo che volevi prendere gli uccelli ma non me. E mi chiedo cosa ti sei fumato per prendere me. No, ce ne sono ancora altri di questi penuti di sabbia. Brava, Farah! A posting. Attento! Il ponte di Brooklyn sta per crollare! Signore e signori, si è verificato uno spiacevole incidente. Passo. Houston, abbiamo un problema. L'interruttore è rosso. Molto divertente. Dai, solleva la grana. No, diciamo tu in serio. È rosso davvero. Emo, come si fa? Andrei avanti tu. Troverò un'altra entrata. Cerca di non metterci troppo. Eh, cerca di non metterci troppo. Ci impiegherò quello che riesco, Farah. Non fare troppe lamentele. Se ti devi lamentare, vai all'ufficio reclami. Che chissà se li ti ascolteranno. Prendiamo un po' di sabbia. Oh, nuova scorta. Sempre più forti. E ora vediamo un po' cosa dice il futuro. Salvare la partita non è ancora. È ancora un po' troppo presto. Salta. Sì. 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 Il pavimento sta per crollare Sono qua su Un'altra volta Là sotto c'è un grande terrazzo Dai ora te lo mostro La fai facile tu Eccomi Stai lì Vengo giù io Ecco dove sono Questa grata conduce ai bagni Pensi di soperci arrivare? Ma certo Raggiungere i bagni da qui sarà facilissimo Bene ci vediamo là Ok Farah dopo questa battuta Io e te siamo divorziati Però temporaneamente Lo chiederò alla prima creatura di sabbia che incontro Mi indica la strada per i bagni per cortesia grazie di cuore Vale fare da vivo ero inseriente ai bagni Ci vediamo ai bagni Mi dà gli ordini come se fossi il suo serbo Ed è colpa mia A una donna devi far capire subito chi è che porta i pantaloni O si prenderà troppe libertà Sono stato troppo indulgente Forse perché mi faceva pena Ma adesso basta D'ora in poi dovrà mettersi in riga Sempre che riesca a trovarla Ok da quello che mi ricordavo qua questa scena era abbastanza acrobatica E anche abbastanza difficile Ma vabbè Vediamo un po' il futuro Ok Magari dopo che saremo entrati da quella grata Riusciremo a incontrarci con Fara Intanto salvare la partita Sì Qui sì Fatto La prossima volta riprenderò da qui Devi dire qualcosa? No bene Bene amici terrestri Il video di oggi termina qui Se vi è piaciuto mettete un bel like Un commento Ed iscrivetevi al canale Io intanto vi ricordo come sempre Di iscrivervi al JDC clan E noi intanto ci rivediamo con un nuovo video E... Shauks E noi intanto ci rivediamo con un nuovo video